Dal 6 all'8 agosto approda a Colledara, nella frazione di Ornano Grande, la seconda tappa del Tour Festival del Saltarello 2015, con convegni, concerti, stage di danza, gastronomia e selezioni del folk contest etnie musicali. Siamo molto felici come amministrazione, soprattutto per questo festival organizzato dalla Prologo di Ornano, che riteniamo un evento molto importante. Dopo il grande successo di pubblico registrato in occasione della prima tappa di Controguerra, il Tour, dedicato a danze e musiche della tradizione popolare abruzzese, approda nella piazza della frazione di Ornano, alle pendici del Gran Sasso. Nella sera del 6 agosto ci saranno, si stracca piazza, la banda brigante ad ospitare la serata, invece la sera del 7 ci sarà l'antivistica, la danza del laccio d'amore e in più ci saranno il trio 99. Il giorno dell'8 agosto invece avremo l'occasione di ospitare il Pasquale Abusivo, che è una tribute band di Manuciao, e in serata come ospiti d'eccezione ci sono in un senso che appunto hanno registrato l'ultimo singolo Io vengo dal Sud, che ha riscosso molto successo. Il Folk Contest è una gara, è un contest come adesso va molto di moda, legata però alla parte musicale, quindi sono invitati tutti i gruppi folk di qualsiasi genere, etnico, world, popolare, a presentare il loro repertorio. Le chiediamo ad ogni singolo gruppo di poter rielaborare, rivisitare una parte del Saltarello, in modo tale che il Folk Contest diventa ricco, interessante per quello che riguarda la contaminazione, l'incrocio fra varie interpretazioni, in modo tale che il Saltarello trovi sempre nuova linfa e nuova vita per le prossime generazioni. 3.000 euro saranno le borse di studio che saranno date ai vincitori, il primo premio 1.800 euro, il secondo 800 euro, il terzo premio 400 euro, poi ci sono dei premi speciali che sono il premio Fanciullo Rapacchietta che consiste in un organetto, in dubotte, da circa 800 euro valore commerciale, e l'altro premio speciale invece è offerto dalla Paolo Soprani, una fisarmonica Folk 72 bassi, dal valore di 5.000 euro.